Come il PNRR può contribuire a cambiare gli spazi e gli strumenti della didattica? Questo è il tema che è stato al centro della tavola rotonda che il 27 di ottobre ha riunito nella sede della città metropolitana di Torino il consigliere delegato della provincia di Cuneo Davide Sannazzaro, il consigliere metropolitano di Bologna Daniele Ruscigno e la consigliera delegata al bilancio e all'istruzione della città metropolitana di Torino Caterina Greco. Il convegno rientrava nel programma del social festival comunità educative, corpi in movimento, menti in evoluzione. L'impegno dal punto di vista politico, soprattutto per città metropolitana di Torino, è stato quello di coordinare, di mettere a fattor comune tutte le risorse perché ovviamente hanno delle destinazioni vincolate, per l'edilizia scolastica, la viabilità, la forestazione, la transizione ecologica e in più città metropolitana di Torino fa da coordinamento rispetto ai progetti urbani integrati che però la realizzazione spette i comuni. Quindi la difficoltà maggiore è su quel versante lì. Per quanto riguarda l'edilizia scolastica, molti progetti, quasi la totalità, riguardano la messa in sicurezza, la certificazione antincendio, l'antesismica, i solai, riguarda molto gli infissi e quindi la priorità è stata data sia dal punto di vista tecnico ma anche, che è stata condivisa anche politicamente, a questo tipo di obiettivo. Per noi è un'opportunità, noi stiamo mettendo a terra 80 milioni di euro, vuol dire 3 nuove scuole, 5 nuove palestre, vuol dire una trentina di interventi e anche l'inconsolidamento dal punto di vista strutturale di molte scuole. Noi abbiamo un problema cronico come tutte le altre province in cui non abbiamo soldi per la manutenzione ordinaria, tanto che è venuto in nostro corso poco fa anche la Fondazione CRC con un contributo proprio per darci una mano nella quotidianità. Noi abbiamo fatto una programmazione per cui il miglioramento di queste scuole, la costruzione di nuove scuole, nuove palestre ci metterà nella condizione di limitare quelle che sono le manutenzioni e soprattutto di reorganizzare il tessuto scolastico della nostra provincia. Il contesto attuale non aiuta perché si inserisce già in una situazione non semplice rispetto a quella che è la burocrazia per fare gli investimenti pubblici in Italia e naturalmente anche quello che è tutto il tema della crisi energetica e anche del boom dei lavori in edilizia sicuramente mettono in difficoltà le imprese che fanno fatica a rispondere anche a questa molla di investimenti pubblici e quindi dobbiamo scontare una serie di ritardi e anche una difficoltà nel reperimento delle imprese che poi partecipano ai bandi. Quindi siamo in una situazione paradossale dove finalmente ci sono fondi per mettere a terra i piani che avevamo immaginato ma sicuramente ci sono le difficoltà che portano dei ritardi anche se devo dire che a Bologna comunque i cantieri stanno procedendo e sono veramente numerosi perché nel nostro piano abbiamo circa 86 interventi di cui una cinquantina di cantieri aperti contemporaneamente quindi sicuramente è un periodo non semplice ma che trasformerà anche quello che è il patrimonio dell'inizio scolastica metropolitana.